pensavo non si vedesse, pensavo al buio ma non di mostrati, di cosa chiara si vede? si, appena appena scusate ma sto sentendo come? contavo sul buio scusate ma cosa succede? sento un fecino roso non lo so, c'è un fecino roso che sta tentando scusate ma chi è? c'è una rosa? no no noi qui stiamo lavorando ce l'ho contato, signore contato incredibile ma noi stiamo lavorando su un salto scusa eh, scusa c'è ogni sera suonate, fate casino c'è un bordello stasera anche sono io permetti va bene, ma almeno avverti, c'è saccio dire, vedete che gente qua e basciate basciate io sto suonando sto facendo semplicemente un brano da qua sopra no, beautiful no, no Andrea comunque condoglianze grazie, grazie e io continuo da qua continuo voi suonati e io sono ma sei sicuro? ah? sei sicuro, dico ma volendo, voglio dire, non mi ha invitato quindi sta suonando solo ah, ci capito, appunto non sei stato invitato di cui non so andremo a dire chi è ah, 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 vabbè no, io qua mi sento, mi sento vabbè, per suoni volete, volete, come era? volete la testata della crasta? portate la terra no, portate la crasta la terra, portate le crasta e, eh, comunque comunque tra l'anno qua si vuole la quanzaccare è a fare capite? aspetta, non stassi staccadenti cammina a sola ma io non staccio se non restiamo ma io quando ci appagliare pure la benzina allora allora ma di muffare l'uscita io ti senti? ah, mi senti? vedi che dice Raul vai bello bello ma si sforfula evidentemente mi sa qualcosa mi chiede? ci mi chiede intorno mi chiede? mi chiede? ci davvero in condominio non c'è nessuno all'altro abbasta suona suona no, dottor allora possiamo l'impinoz guarda ah, grazie a sera le ragazze non ci chiamano a noi quindi suona io allora ma tu questa realtà sorda però non ci facciamo questa sorda allora quale cazzo devo fare? sapete di questo lo accompagniamo di questo io lo faccio scusateci noi non volevamo ma non gioco imprevisti mi chiede? mi chiede? come non vieno? mi chiede? mi chiede? sì mi chiede? si mi chiede? Grazie a tutti. 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 Un piccolo, un attimo. Mi viene russo, Michael Rusham. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.